Quality Award 2020 Spezie eubena Erbe e spezie biologiche BioWagner È veramente un grande piacere ed un onore l'aver vinto il premio Quality Award perché la qualità è uno degli asset più importanti della nostra azienda. In un mercato particolarmente difficile, qual è quello delle spezie, garantire la qualità dal seme fino al prodotto finito è un mantra quasi della nostra azienda. Ovviamente nel momento in cui si parla di spezie erbe e condimenti in generale la provenienza è molto importante noi di fatto abbiamo anche delle piantagioni di proprietà all'interno del nostro gruppo il che garantisce la possibilità veramente di vedere nascere le nostre piante per poi poterle portare sulla tavola dei consumatori italiani. Questo premio ci fa particolarmente piacere proprio perché in questo caso la giuria è la giuria dei consumatori che dopo la prova del prodotto hanno certificato la qualità di alto livello delle nostre spezie sia nella linea classica UBENA sia nella loro proposta biologica con la nuova marca BioWagner che abbiamo appena lanciato. Ringrazio quindi la giuria del Quality Award i consumatori che ci hanno premiato e a questo punto diamo appuntamento a tutti quanti sulle tavole di tutti i consumatori italiani. Grazie. 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 Grazie.